Musica Sequestrati in casa mentre una banda di malviventi razziava il possibile prima di darsi alla fuga è l'incredibile avventura vissuta nel pomeriggio di domenica scorsa da una coppia di coniugi civita vecchiesi sull'episodio avvenuto nella periferia sud della città in zona boccelle alta indagano gli uomini del commissariato di Viale della Vittoria è stata una domenica di terrore quella appena trascorsa per una coppia di coniugi civita vecchiesi al rientro a casa nella loro abitazione che si trova a boccelle alta praticamente al di sotto del viadotto autostradale della 12 moglie e marito hanno trovato ad accoglierli in casa una banda di ladri la prima ad essere bloccata non appena entrata nel giardino dell'abitazione è stata la donna costretta ad entrare sotto la minaccia di un'arma poi è stata la volta del marito nell'arco di pochi minuti i malviventi due dei quali tenevano sotto tiro i coniugi hanno rovistato all'interno della villa asportando qualsiasi cosa di valore riuscissero a trovare ad una prima stima il bottino ammonterebbe ad oltre 20.000 euro tra gioielli denaro contante e altri oggetti così come erano arrivati i malviventi si sono poi dileguati i coniugi superato il comprensibile momento di shock hanno dato l'allarme sul posto sono arrivati gli uomini del commissariato di viale della vittoria che hanno dato il via alle ricerche dei malviventi i quali però erano riusciti a far perdere le loro tracce le indagini sono tuttora in corso e si basano anche sull'osservazione delle immagini di alcuni impianti di videosorveglianza presenti nella zona si tratta di un'area particolarmente estesa dove le abitazioni non sono particolarmente vicine l'una all'altra dal modus operandi con particolare riferimento alla freddezza alla determinazione alla velocità con il quale si è svolto il tutto tutto lascia ritenere che l'azione sia stata condotta da una banda specializzata che probabilmente teneva d'occhio da tempo la zona dove ha poi deciso di mettere a segno il colpo gli inquilini dello stabile Ater di via 16 settembre da cinque anni fuori casa in attesa che arrivi la demolizione e la successiva costruzione di un nuovo palazzo sono tornati a far sentire la loro voce in un appello al commissario dell'Ater hanno chiesto che per risparmiare tempo e poter finalmente fare ritorno nelle loro abitazioni anziché con la demolizione ricostruzione si proceda ad una ristrutturazione dello stabile e l'iniziativa appare possibile ad aprile saranno trascorsi ben cinque anni dal momento in cui gli inquilini del palazzo popolare di via 16 settembre 23 furono fatti sgomberare dalle loro abitazioni per problemi di stabilità e pericolo di crolli le famiglie trovarono ospitalità in alcuni alloggi provvisori e in residence sparsi per civita vecchia con la promessa che il disagio avrebbe avuto tempi brevi massimo sei mesi venne detto invece come spesso capita nel nostro paese tra rimpalli di responsabilità e procedure elefantiache di semestri ne sono trascorsi quasi dieci e il disagio continua anziché pensare ad avviare un'opera di consolidamento del palazzo ater la proprietaria decise per procedere con la demolizione e la ricostruzione nel 2022 tre anni dopo lo sgombero venne pubblicato il bando di gara che per una somma di circa 6 milioni e mezzo di euro prevedeva appunto lo smantellamento dell'immobile esistente e il suo totale rifacimento qualche mese fa sia il comune che l'ater assicurarono che il cantiere sarebbe stato consegnato a novembre da quel momento si sarebbe dato inizio ai lavori al momento però nulla si vede oltretutto sull'assegnazione dell'appalto è in corso un'indagine della guardia di finanza a fronte di denunce ed esposti che hanno messo in evidenza presunte anomalie nelle procedure di gara i tempi quindi rischiano di allungarsi a dismisura così come i semestri di disagio dei residenti che legittimamente non vedono l'ora di rientrare nelle case dove hanno vissuto per decenni ma la loro proposta di cambiare indirizzo ovvero di accantonare l'ipotesi demolizione ricostruzione per sposare quella della ristrutturazione è davvero percorribile abbiamo chiesto a qualche esperto locale non ed effettivamente è possibile andare al consolidamento alla ristrutturazione dello stabile ci viene spiegato che al giorno d'oggi esistono sistemi immateriali in particolare il carbonio che consentono risultati straordinari gli immobili che vengono ricostruiti tornano praticamente nuovi superano brillantemente tutti i controlli previsti dalla normativa antisismica e possono tornare ad essere abitabili nell'arco di pochi mesi altri due particolari assolutamente non trascurabili il costo della ristrutturazione sarebbe di molto inferiore rispetto ai 6 milioni e mezzo stanziati per la demolizione e la ricostruzione con la differenza che potrebbe essere investita in altre opere e il cambio di indirizzo potrebbe far uscire dall'impasso attuale e possibilmente futura visto che sulla vicenda pende come un macigno l'inchiesta avviata dalla magistratura per le presunte irregolarità nell'assegnazione dell'appalto insomma se fossimo nel commissario dell'ater un pensierino su un cambio di strategia per via 16 settembre lo faremmo e anche in fretta l'attenzione che il presidente dell'agraria mi ha dedicato nella sua piccata risposta al gruppo m5s non può che gratificarmi se il movimento 5 stelle dovesse ritornare al pincio l'associazione agraria sulla questione degli usi civici non avrà vita facile sono parole del capogruppo del movimento 5 stelle vincenzo d'antò che risponde direttamente al presidente dell'università agraria daniele de paulis le numerose sentenze che lo hanno sconfitto in varie sedi giudiziarie spiega d'antò sono il risultato di un'iniziativa dell'amministrazione del movimento 5 stelle che ha deciso di mettere il comune in prima linea per difendere i diritti dei propri cittadini grazie al movimento 5 stelle regionale è stata approvata una legge che se applicata toglierebbe la competenza all'associazione agraria per l'individuazione delle aree della nostra città gravate da usi civici tale soluzione non è stata attuata a causa dell'inerzia colpevole dell'attuale amministrazione regionale beato chi si sa gratificare con il niente la soddisfazione di enzo d'antò è passeggera ed inutile una meteora come il movimento politico che ora rappresenta e per il quale ancora aspira a diventare consigliere regionale non è tardata la risposta di daniele de paulis presidente dell'università agraria al capogruppo del movimento 5 stelle quando d'antò stesso dice che l'amministrazione 5 stelle ha fatto approvare una legge che risolve il problema degli usi civici afferma de paulis ma che l'attuale giunta regionale tiene questa meravigliosa soluzione nel cassetto mi sembra una costruzione assolutamente immaginaria che dimostra ancora una volta se ce ne fosse bisogno come il consigliere pentastellato abbia molti buoni principi in mente ma incapace di porli in atto si limiti a sognarli considerandoli solo nel suo immaginario come realtà chi pensa e non realizza caro d'antò non è un politico ma un sognatore il san paolo continua a trattenere il fiato in attesa del picco dell'influenza stagionale previsto per fine mese non mancano le difficoltà per l'ospedale cittadino soprattutto al pronto soccorso dove attualmente sono oltre 20 pazienti in attesa di essere trasferiti nel sovraffollato reparto di medicina o di essere dimessi intanto l'asla roma 4 lavora sulla proposta avanzata dal dottor moci sugli ambulatori di cure primarie i particolari nel servizio il picco dell'influenza stagionale si allontana e il san paolo dovrà stringere i denti fino alla fine di gennaio continuano ad essere giorni difficili per l'ospedale cittadino alle prese da una parte con i numerosi accessi al pronto soccorso dall'altra con il sovraffollamento del reparto di medicina anche se non ci sono mai state ambulanze usate come posti letto come avvenuto in alcuni ospedali d'italia sono attualmente oltre 20 le persone in stand by nel punto di primo accesso in attesa di essere trasferite a medicina reparto che risulta sovraffollato da pazienti colpiti da polmoniti e malattie del sistema respiratorio causate dalla contemporanea convivenza di covid adenovirus rinovirus e dell'influenza stagionale il cui piccoli esperti hanno spostato alla fine del mese risulta quindi determinante la riunione del giovedì della task force messa in piedi dall'asile roma 4 alla quale partecipano la direttrice generale dell'asile roma 4 cristina matranga il direttore del dea beniamino susi quello del reparto di medicina generale giancarlo gimignani e il direttore sanitario del polo ospedaliero del san paolo antonio carbone con l'obiettivo di gestire le dimissioni per fare spazio ai nuovi malati la fase non è semplice conferma il dottor carbone ma ce la facciamo ancora medicina è piena e quindi è importante valutare con attenzione le dimissioni in modo da permettere a chi è in attesa in pronto soccorso di salire in reparto il picco dell'influenza è previsto per fine mese siamo pronti a stringere i denti ancora a confermare l'andamento dell'influenza stagionale il dottor mauro mocci tra i medici sentinella della regione lazio siamo nella fase di stabilità spiega il dottor mocci e tra una decina di giorni ci aspettiamo la discesa il san paolo tiene botta anche se l'emergenza c'è e la pressione anche intanto l'asroma 4 lavora per trovare soluzioni a lungo termine per alleggerire il carico sul pronto soccorso come conferma anche lo stesso direttore sanitario dell'ospedale carbone la direttrice generale dell'azienda sanitaria matranga ha chiesto rivalutare la fattibilità della proposta dello stesso mocci di istituire ambulatori di cure primarie spazi aperti il sabato e la giorni festivi dove i medici di medicina generale della città alternandosi in turni in grado di coprire dalle 10 alle 19 si presterebbero a visitare pazienti che presentano una sintomatologia non così grave da richiedere l'accesso al pronto soccorso anche se non si farà in tempo a sfruttarla per l'attuale fase di emergenza certamente sarà una soluzione utile a medio e lungo termine una sfida molto attesa ma in una situazione ed una collocazione davvero particolare domani alle 21 va in scena il secondo atto del derby per la stemar 90 cestistica contro la rim cerveteri un incontro che si disputerà in infrasettimanale come recupero della gara rinviata poco prima delle festività di fine anno e che si giocherà a balcanneto e non nella palestra dei cervi con cui militano anche gli ex bezzi parrocini e al farano dopo il largo successo sulla smith il quintetto di gabriele la rosa ancora in costruzione per i movimenti di mercato ha bisogno di vincere per entrare pienamente in zona pol promozione altrimenti ne uscirà con una sconfitta l'intervista Andrea Campogiani dopo la vittoria con la smith arriva subito questo derby derby un po' particolare perché si gioca di mercoledì sera a balcanneto che non è la vera casa della rim cerveteri però comunque sia bisogna vincere per andare veramente dentro la zona pol promozione Sarà una partita molto diciamo particolare perché noi onestamente siamo un cantiere aperto dopo insomma tutte quante le vicissitudini che hanno caratterizzato queste vacanze natalizie e abbiamo perso due giocatori che erano praticamente insomma molto importanti per noi ne abbiamo presi altri e ci stiamo ancora conoscendo quindi sarà una partita in cui quello che conta di più secondo me sarà non tanto il risultato alla fine quanto come riusciremo a giocare se riusciremo a fare un approccio come la gara scorsa con la smith e già quello può essere un buon punto di partenza per le partite future questa partita durante la settimana ci avete giocato anche la scorsa settimana quindi ne ha fatte tre nel giro proprio dei sette giorni cosa bisogna fare per cercare di vincere voi avete trovato questa vittoria con la smith anche grazie all'apporto dei vari ragazzi che sono arrivati come abitanza talluto come scarpone come sta andando il loro insedimento a livello umano benissimo sono tre ragazzi molto molto motivati fanno spogliatoio gli allenamenti stanno andando bene anche la partita che abbiamo giocato contro la smith insomma nonostante ci fosse un po di timore per quello che poteva rappresentare col fatto che comunque loro è vero che non avevano vinto neanche una partita fino a quel momento però sono sempre trasferte un po insidiose soprattutto se le vai ad affrontare in una condizione insomma non proprio ottimale e invece abbiamo risposto presente tutti quanti e cosa bisogna fare per vincere questo derby io ti direi le solite cose giocare col cervello e giocare insieme basta quello momento anche speciale perché voi avete due rare casalinghe consecutive importante lanciarsi come detto sperando di arrivare nei primi sei questo campionato ci ha insegnato che comunque nessuna partita deve essere data per scontata perché saltano i pronostici non solo a noi e salta il fattore campo non solo a noi anzi noi forse siamo una delle squadre che mantiene il pala ricucci più c'è il fattore campo più inviolato però ogni partita purtroppo deve essere affrontata con lo stesso spirito cioè non ci si può distrarre non ci possono essere cali di concentrazione dobbiamo essere da qui fino alla fine del campionato anche poi insomma nella seconda fase perché anche le partite della seconda fase conteranno ai fini del ranking finale bisognerà essere tutti diciamo sulla stessa lunghezza d'onda e dovremo sempre essere il più possibile compatti e giocare insieme per fare più possibile più possibile punti da mettere in cascina in classifica non si è ancora svolta la nuova riunione sulla questione palagalli che era stata programmata per ieri dopo l'incontro dello scorso 5 gennaio al comune in merito alle sollevazioni avanzate riguardo gli spazi acqua allo stadio del nuoto era previsto un nuovo vertice tra il delegato allo sport matteo jacomelli la nc che gestisce l'impianto e la nautilus società che era entrata nella questione perché alcuni genitori delle proprie giocatrici avevano chiesto delle modifiche per la programmazione degli allenamenti quindi due club dopo lo scorso incontro avrebbero poi svolto delle riunioni interne per definire il da farsi per poi tornare ad aggiornarsi con il comune una volta definito il tutto ciò però non sarebbe ancora avvenuto ma l'incontro dovrebbe essere riprogrammato in queste settimane importante traguardo per riccardo sperduti domenica scorsa l'esperto allenatore civita vecchiesi ha collezionato la sua settecentesima presenza in panchina della sua carriera nell'occasione il tecnico dell'allumiere è stato premiato con una targa ricordo dalla società bianca azzurra e dal sindaco del comune collinare luigi landi e la sua squadra gli ha consentito di festeggiare al meglio grazie alla vittoria per 1 a 0 contro la virtus rignano che gli permette di staccare di 8 punti la zona play out sperduti ha vissute tante esperienze di spessore nella sua carriera spesso proprio in collina ma con il tolfa che ha allenato per tre volte oppure con la caninese con cui si è guadagnato l'accesso all'eccellenza